Ci sono bambini nel mondo che giocano 18 ore al giorno. A fare il meccanico, l'operario, il manovale. Fermare questo sfruttamento è il compito di noi adulti. Basta un piccolo sforzo. Un'offerta a mani tese. Lasciateci giocare a fare i bambini. Brians, colori brillanti e durevoli come diamanti. La testa nera. 40 ragazze, le più belle d'Italia. Una di queste forse la più bella del mondo. Su Rete 4, giovedì alle 20.45. Miss Universo, la sfida italiana. Presentata da Ele Noir Casaligno, Paolo Galissano e Clarissa Barth, la selezione ufficiale italiana per il concorso che eleggerà nel 2002 la più bella del mondo. E tra sfilate di alta moda e magistrali esibizioni, una giuria illustre si unirà alle vostre preferenze date via internet per eleggere la più bella fra le belle. Miss Universo, la sfida italiana. Giovedì alle 20.45, su Rete 4. I Miti Cinema, azione, avventura, spettacolo. In edicola la prima uscita con due film. Matrix e The Avengers, sole 14.900 lire. I Miti Cinema, una collezione di successi. Ma una cameretta nuova? Eh, ci vuole. Possiamo usare la carta ricaricabile a banco posto? Così si paga la cameretta e noi decidiamo quanto rimborsare al mese. E ci mettiamo anche il letto a castello. Ma per quelli è ancora presto. Benvenuti nel nuovo sistema. Benvenuti al Banco Posta. Il conto con le carte di credito convenienti e su misura per te. Buongiorno. Buongiorno. Molto meglio un bellettino a castello. Banco Posta. Bella scoperta. Cosa? Non ti ricordi niente? Oh sì, la nuova Rover 25100. Grande. Fichissima. E guidatore? Vieni a vedere la nuova Rover 25100. Non farlo, è reato. Da 21 milioni e 200 mila lire chiavi in mano. Benvenuti nel nuovo sistema. Benvenuti al Banco Posta. Il conto con le carte di credito convenienti e su misura per te. Bella scoperta. Chi non ha sognato mai. Chi non ha sognato mai. Il grande. Chi non l'ha trovato mai. Chi non l'ha trovato mai. È so... Chi non l'ha trovato mai. Chi non l'ha trovato mai.